Ok raga, oggi mini video per spiegare, semplicemente perché skipperò anche questo banner, mi dispiace, l'ho già un po' accennato su TikTok, però volevo fare anche un discorso qui sopra, perché poi alla fine non è detto che siate gli stessi su TikTok di qua, cioè gran parte di voi si, però non è detto insomma. Sostanzialmente perché lo skippo? Un po' perché siamo alle porte dell'anni, magari poi vi metto, ora vediamo un attimo la lista dei personaggi, ma poi vi metto un po' di gameplay mentre parlo, perché sennò vi spaccate giustamente la fava. Allora intanto la lista dei personaggi che fanno veramente, io penso, più cacare di qualsiasi altro banner io abbia detto nei video che faceva cacare. Commentatemi i soliti che mi dicono sempre che ogni banner dico che fa cacare, commentatemi dicendomi se questa volta anche secondo voi fa più cacare del solito. Nel senso, Kid Buu perfetto, personaggio nuovo, ultra, incredibile, impressionante, va benissimo. Mi spiegate, l'altro Kid Buu LF mi sta anche bene, ci sta come, cioè è giusto che ci abbiano ficcato anche lui, poi magari riceverà lo Zenkai, potrebbe tornare giocabile, ci sta, mi va bene. Mi spiegate gli altri personaggi LF a cosa cazzo servono, cioè sono personaggi di, boh, non lo so, forse avevo due anni quando sono usciti, cioè questi banner fanno schifo e lo ripeterò all'infinito. LSP, mi spiegate LSP a cosa servono, cioè, ma non è tanto l'utilità, no, perché alcuni personaggi tipo Freezer Gold, Whis, cioè potrebbero anche essere personaggi tutto sommato che, sì, non si giocano più, non si giocano più di tanto, però non fanno proprio schifo, schifo, schifo totalmente. Ma mi spiegate gli altri personaggi cosa ci stanno a fare, cioè ogni banner ha come base questi personaggi qui, questi, cioè questi che non puoi giocarli neanche se, cioè se uno ti obbliga a giocarli, non ce la fai, cioè capito, piuttosto prendi le botte ma non li puoi giocare perché fanno talmente tanto schifo. Cioè quello che non capisco è, c'è necessità in ogni banner che esce, in ogni banner, di ficcarci dentro tutta questa merda? Cioè nel senso, mettine metà, no? Ne metti metà o ne metti un terzo e poi nei prossimi banner metti le rimanenti. Cioè vi rendete conto di quanti personaggi ci sono inutili completamente tra le extreme e le SP? Cioè, no, raga, io schifo anche questo e vaffanculo. E poi ci si rivede all'anni, probabilmente, a meno che non esca... Beh, magari se uscisse, non lo so, un Gotenks LF, visto che sono main fusion, magari lì ci pullerei. Gotenks ho detto perché siamo in tema bussaga, magari ci potrebbe anche stare. Però se no io vado dritto all'anni, 75.875 crono, potenzialmente vorrei arrivare a mille. E niente, non voglio più parlare, quindi il video lo chiudo qui, il gameplay non ve lo metto. E fatemi sapere da 1 a 10 quanto vi fa cacare questo banner. Fatemi anche sapere se avete pullato in quanto lo avete trovato, come vi sembra il personaggio. Perché sì, ok, guardarmi gli showcase degli altri. Però, insomma, se mi dite anche secondo voi... Cioè, facciamo una cosa, ditemi da 1 a 10 quanto valutate il personaggio, dove 10 è incredibile e impressionante. E da 1 a 10 quanto il banner vi fa cacare, dove 10 è mi fa cacare tipo sciolto di quella proprio che... Cioè, tipo che cachi prima di arrivare al cesso, ecco, capiamoci in questo modo. Niente, dai, ci vediamo, boh, penso domani con qualche team del cazzo, senza chi boo, chiaramente.